Siamo qui allo stadio Damuri di Grottaglie dove l'Arset Labor ha battuto il Capurso per 2 a 0. Parliamo con il mister Francesco De Filippi, arrivato per questo nuovo campionato qui all'Arset Labor. Come hai trovato la squadra e qual è il tuo progetto? Cosa stai portando avanti? Sto portando avanti il progetto della società che è un progetto basato sui giovani. Abbiamo ringiovanito la rosa quest'anno rispetto agli altri anni per cercare di programmare e di fare bene con i ragazzi. Una partita che è stata un 2 a 0 veramente sudato. Come avete trovato gli avversari? Sudato perché non siamo stati bravi a concretizzare tutte le occasioni che abbiamo avuto. perché comunque abbiamo avuto diverse occasioni da gol quindi la partita la potevamo chiudere molto prima. Sono stati bravi i ragazzi comunque a non rischiare niente, a chiuderla agli ultimi 5 minuti. Un 3-5-2 è un modulo che comunque sta mostrando una certa sintonia con questa squadra. Sì, da una decina di giorni che stiamo lavorando anche su questo modulo anche se abbiamo iniziato con il 4-3-3 però ci sono calciatori funzionali a questo tipo di modulo e quindi abbiamo provato anche questa alternativa sia domenica scorsa, nel secondo tempo a Ginosa e sia oggi perché sapevamo anche come sarebbero venuti disposti gli avversari quindi ho pensato bene di adottare sino al primo minuto questo tipo di modulo. Domenica prossima l'Arset Labor va in trasferta a Castellaneta dove rincontrerà e si scontrerà con lo storico rivale della prima categoria. Come vi state preparando alla prossima partita? Ancora non ci pensiamo, da stasera o domani mattina iniziamo a pensare a Castellaneta. Sarà sicuramente una partita dura perché comunque è sempre un derby molto sentito, l'anno scorso c'è stata questa finale che ha fatto salire direttamente il Grottaglie in promozione però anche il Castellaneta tramite il ripescaggio è salito quindi comunque sarà una partita sicuramente molto combattuta. Invece fra due domeniche arriverà invece la United Sly, una squadra che promette molto in questo campionato per quelle invece come vi state preparando? Quella è la squadra da battere penso, insieme al Manfredonia e al Bitrito sono le tre squadre che secondo me faranno un campionato a parte. Per adesso pensiamo alla partita di Castellaneta e poi penseremo allo Sly, partita dopo partita perché ogni domenica sarà una battaglia, quindi per adesso pensiamo a Castellaneta. Siamo qui con Mimmo Ligorio, direttore sportivo dell'Arset Labro Grottaglie. Una partita, parlavamo prima con il mister De Filippi, veramente sofferta. Sì, sofferta anche se sinceramente credo che il possesso palle, il pallino del gioco sia sempre stato dalla parte del Grottaglie. Abbiamo capitalizzato sicuramente poco o pochissimo rispetto a quanto prodotto, però portiamo a casa la partita, alla fine quello che conta sono sempre tre punti. Due vittorie e una sconfitta in casa con il Nocattaro. Come vedete proiettata la squadra in questo campionato? No, no, io rimango sempre con i piedi per terra. Nella mia agenda mancano ancora 34 punti, che sono la quota salvezza tranquilla. Poi quello che verrà lo dirà il campo. Io credo che bisogna comunque stare calmi, restare con i piedi per terra, perché adesso ci aspetta un trittico di partite davvero importanti. Castellaneta, Slai e Bitritto a seguire, quindi dobbiamo davvero restare umili e concentrati e lavorare tanto. Un parere su Fonsino e Cecere che oggi hanno portato a casa questi due punti della vittoria? Sono due giocatori che conosco benissimo. Fonsino è già al terzo anno con noi, lo prendemmo due stagioni fa con l'inizio dell'Era la Volpe. E Cecere è un attaccante che abbiamo preso adesso in chiusura di mercato. Un attaccante forte che conosco bene dalle passate stagioni a Castellaneta. Quindi sono due ragazzi importanti e che faranno la differenza da qui a fine anno. Quest'anno è un progetto impuntato sui giovani. Qual è la differenza rispetto al progetto portato avanti l'anno scorso con Orlandini? Beh, la differenza del progetto sta nel fatto che non hai l'ambizione di dover necessariamente raccogliere un risultato sportivo, quello che invece era assolutamente necessario l'anno scorso. Da quest'anno abbiamo avviato questo nuovo processo di rifondazione della squadra, abbassando nettamente l'età media della squadra. L'unico overissimo, diciamo, resta Claudio Miale, ma penso che sia un giocatore indiscutibile. Dopo partiamo dal 90 in giù come fascia d'età. Quindi ritengo che sia un buon inizio per arrivare in due o tre anni a raccogliere i frutti di questo lavoro di preparazione. Una cosa che si può notare in questa partita è che fra giocatori in casa e giocatori avversari c'è stato un vero rispetto sportivo. Beh, ma questo avviene in ogni partita ed è anche una nostra linea sia societaria che dello staff tecnico. Essere concreti in campo e cercare di evitare quei litigi che poi ti portano ad essere penalizzato. Abbiamo creato un gruppo positivo, un gruppo che si sta affiatando giornata dopo giornata e ripeto, pian piano raccoglieremo i frutti di questo lavoro. Fine, ti faccio la stessa domanda che ha fatto il mister De Filippi. Domenica prossima si va a Castellaneta. Una squadra che è pronta forse a rivendicare un po' la sconfitta della prima categoria? Sicuramente sì, ma noi affronteremo quella partita come affrontiamo tutte le altre in campionato. Per noi sarà una partita normale dove cercheremo di centrare l'ennesimo obiettivo che è quello di portare a casa quanti più punti possibili. Sono ripetitivo ma non mi stancherò mai di esserlo per centrare quanto prima quell'obiettivo tranquillità. Per poi magari durante il corso dell'anno programmare qualcosa di più importante. Ok, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.